Il regalo per gli aritini sindaco Qualche cosa che era nato pochi anni prima, perché il Saracino, se ricordate, è risorto nel 1934 e quindi aveva tre anni e ci ha messo dentro i simboli della nostra città, il cavallino rampante, un armigero, un tamburo e quindi io ho fatto in modo, ho ritrovato il collezionista, abbiamo un po' trattato e verrà regalato agli aritini da estra e dal sottoscritto. Che anno sarà il 2017? Il migliore del 2016, non ho assolutamente dubbi, abbiamo fatto tanto nel 2016, abbiamo cominciato ad attuare la vera politica di questa amministrazione che però ci siamo scaldati i muscoli direi e vedrà il più e il meglio nel 2017 e negli anni a seguire. Io mi auguro che ci siano ritorni economici come quelli che il Premier Renzi aveva promesso a Bari durante il Convenio Nazionale del Lanci circa il bando per le periferie degradate, sulle quali il Comune di Arezzo ha puntato moltissimo. Se avverrà quello che Renzi ha promesso arriveranno 18 milioni di euro per risolvere problemi di degrado urbano che è uno dei nostri problemi più grossi oggi, che si porta dietro la sicurezza, che si porta dietro le povertà, che si porta dietro il disagio. Quindi se veramente quei 18 milioni arriveranno ad Arezzo noi ci stiamo già attrezzando facendo i progetti ora, pagandoli ora, senza sapere se in realtà arriveranno oppure no, ci stiamo fidando della parola di un uomo, speriamo che tale sia e che venga mantenuta dal governo che è in continuità con quello di Renzi e questa città cambierà radicalmente volto. Una cosa su tutte e poi le altre le raccontiamo in uno speciale di fine anno, questa lettera che lei vorrebbe, la seconda, scrivere a Mattarella, chi vorrebbe che la firmasse assieme a lei? Tutti coloro che hanno a cuore la sorte degli aretini e che rappresentano qualcuno, non posso chiedere la firma di tutti i miei concittadini, io li rappresento tutti, però credo che se i parlamentari aretini volessero sottoscriverla, se il presidente della provincia volesse sottoscriverla, se il presidente della Camera di Commercio, delle massime istituzioni, istituzioni aretine la volessero sottoscrivere sarebbe veramente un grande segnale per tutti i cittadini perché si renderebbero conto che non sono lasciati soli. Che cosa chiederanno questa lettera? Che venga rivalutata la posizione dei subordinatisti di Banca Etruria che sono stati ingiustamente penalizzati un anno fa rispetto ai subordinatisti del Monte dei Paschi che recentemente hanno avuto praticamente un lascia passare in quanto le loro obbligazioni subordinate verranno rivalutate in termini di azioni e non perderanno valore. Quelle degli aretini sono diventate carta a fraccia da un momento a un altro, esattamente un anno fa, sotto la stessa presidenza della Repubblica, sotto lo stesso ministro dell'Economia e con un Premier in continuità politica con quello che c'era allora. Quindi io credo che questa disparità, questo aver usato due pesi e due misure, veramente non sia accettabile. Io ho avuto toni più duri nei giorni passati, non è che mi sono ammorbidito, ma ho maturato la convinzione che probabilmente una lettera civile al Capo dello Stato può aiutare a ristabilire condizioni di equanimità nel territorio del Sud e della Toscana.